Ciao a tutti e benvenuti a questo tutorial. In questo video vi illustrerò come utilizzare il software EasyMASV della Geostrum. Iniziamo subito esaminando le funzionalità dell'interfaccia del software. L'interfaccia grafica di EasyMASV presenta come elemento principale il CAD di disegno. Sul lato sinistro troviamo una sezione dedicata ai dati generali. Qui è possibile inserire informazioni relative al progetto come la descrizione, il committente, il cantiere, la località e così via. Per visualizzare la mappa satellitare dell'area di interesse è possibile inserire le coordinate di latitudine e longitudine. Una volta inserite la mappa verrà mostrata nel riquadro centrale. Per catturare l'immagine satellitare dell'area di studio clicchiamo su Cattura vista e l'immagine verrà automaticamente salvata nel report che esporteremo successivamente. Inoltre è possibile allegare una foto al report facendo clic su Allega foto. Ad esempio potremmo allegare una foto del sito di interesse. Anche questa immagine verrà inclusa nel report finale. Passiamo alla sezione denominata Tracce. Questa rappresenta l'input dei dati in cui inseriremo le tracce sismiche. Per aggiungere una traccia facciamo clic sul pulsante di inserimento situato accanto ad Aggiungi tracce. Quindi selezioniamo il file SG2 e vedremo che le tracce sismiche verranno visualizzate nel CAD principale. È possibile filtrare le tracce facendo clic sull'icona selezionando solo la parte del segnale che ci interessa. Quindi elimineremo eventuali altre anomalie registrate nel segnale. Facciamo clic con il tasto destro del mouse e osserviamo la porzione di segnale filtrata. A questo punto passiamo alla sezione dell'analisi spettrale. La prima cosa da considerare è la curva di velocità di fase sperimentale. Questa curva viene generata dal software in base ai dati di input che sarebbero le tracce. Quando clicchiamo sul pulsante Esegui analisi il software ci fornirà un'immagine accanto che rappresenta lo spettro di velocità di fase. Nella finestra delle impostazioni di analisi a sinistra vediamo i valori di frequenza minima, frequenza massima, velocità minima e velocità massima. Possiamo modificare questi valori e la griglia al lato si alterà di conseguenza. Quello che vediamo nella griglia non è altro che la distribuzione delle tracce nel grafico frequenze velocità di fase. Per individuare la curva di dispersione numerica identifichiamo i modi che sono i punti corrispondenti a frequenza e velocità di fase che individuiamo noi stessi e questi punti delineranno la nostra curva di velocità di fase numerica. Nella parte dedicata al peaking, dal menu a tendina in corrispondenza di modo, possiamo selezionare il modo 0, poi 1, 2. Il modo 0 rappresenta il modo fondamentale. Clicchiamo su Aggiungi punto e tracciamo una prima curva di dispersione ipotetica. Quando spostiamo il cursore del mouse sui punti appena tracciati, appare un pop-up con i valori di frequenza in hertz, velocità espressa in metri al secondo, lunghezza d'onda lambda e profondità z espressa in metri. Se abbiamo tracciato erroneamente un punto, possiamo semplicemente cliccare su Elimina punto e se desideriamo ripetere la traccia, possiamo cliccare su Nuova selezione. Successivamente possiamo individuare i modi successivi, ad esempio il modo numero 1, cliccare su Aggiungi punto e tracciare altri punti, e così via per i successivi modi. Per consentire al software di lavorare correttamente e individuare la curva sperimentale, è necessario fornire dati affidabili. Ad esempio possiamo inserire i dati stratigrafici ottenuti da un sondaggio, come il numero di strati e gli spessori delle diverse litologie. Questi possono essere inseriti nella tabella del modello sintetico e questi possono essere inseriti insieme ai valori di peso dell'unità di volume naturale e saturo ottenuti dai dati di laboratorio. Una volta inseriti i dati stratigrafici, includiamo anche i valori di velocità che leggiamo dallo spettro di velocità di fase e vedremo la curva sperimentale comparire. Per minimizzare l'errore tra la curva numerica e quella sperimentale, possiamo spostarci sui modi e riposizionare i punti che abbiamo individuato utilizzando la funzione Sposta punti. A questo punto procediamo cliccando su Inversione profilo stratigrafico. Durante questa fase faremo lavorare l'algoritmo inserendo il numero di strati e il numero di iterazioni. Maggiore sarà il numero di iterazioni, maggiore sarà il tempo impiegato dal software per trovare la soluzione. Per il numero di modi possiamo lasciare il valore impostato a 3, poiché sono quelli che abbiamo individuato in precedenza. La percentuale di errore che abbiamo ottenuto vediamo che risulta essere bassa. Questo significa che il risultato è accettabile e che la nostra curva di dispersione numerica è congruente con la curva sperimentale. In questa fase passeremo all'inversione. Da qui individueremo quindi il profilo di velocità nel CAD. Cliccando su Sismo stratigrafia avremo accesso al profilo Sismo stratigrafico. Quindi, oltre al profilo di velocità, vedremo anche la stratigrafia con lo spessore dei vari strati e le rispettive velocità. In questa sezione del CAD è possibile variare la scala, inserire i retini per i vari strati ed esportare il disegno in formato DXF. Passiamo successivamente alla sezione Categoria di suolo. Effettuiamo la selezione del testo di riferimento per il calcolo della US equivalente, che in questo caso corrisponde a NTC 2018. Inserendo il valore del pieno di posa, possiamo osservare che otteniamo una categoria di suolo pari a C. Ciò si verifica in quanto la velocità ottenuta rientra nell'intervallo compreso tra 180 e 360 metri al secondo, proprio come specificato nella tabella adiacente, che è tratta dalla normativa attualmente in vigore. Infine, salviamo i nostri dati e creiamo il report finale. Grazie per aver seguito questo tutorial e se avete bisogno di ulteriori informazioni controllate i link e le risorse aggiuntive in descrizione. A presto!